Purtroppo i numeri non sono assolutamente lusinghieri perché scartabellando il sito di Arpam, visto che il sito del Comune di Fano non è aggiornato, abbiamo scoperto che proprio nei primi due mesi e mezzo dell'anno, dal primo gennaio a praticamente ieri, a Fano sono stati registrati 23 sforamenti dalla centralina posizionata in via Montegrappa, che è proprio in un luogo sensibile perché davanti alla scuola Corridoni, e quando per legge sono previsti 35 sforamenti all'anno e quindi mancando nove mesi la cosa ci destra abbastanza preoccupazione. Timolare all'uso delle bici oppure creare nuovi spazi per queste, allora forse non basta, ci vuole ben altro. Bisognerebbe completare questo lavoro che è stato iniziato in modo molto sporadico e riguardante solo alcuni punti della città, troppo pochi evidentemente. Il problema principale è quello di spostare l'attraversamento cittadino da nord a sud della città fuori dalla città perché adesso lambisce il centro storico e quindi certo incentivare l'utilizzo in sicurezza però di piste ciclabili e di pedoni. La giornata di oggi vissuta in piazza dagli studenti come la giudicate? Era una giornata particolarmente importante in cui avrebbero dovuto essere proprio gli studenti, i protagonisti, invece abbiamo visto purtroppo che a Fanno ha preso la scena il nostro sindaco che dal nostro punto di vista ha travalicato un pochino quello che era il suo ruolo istituzionale, quindi ci aspettavamo che facessessi un saluto, ma il tutto si è trasformato in una sorta di comizio elettorale dove si è messo a dire che cosa farà in futuro nei prossimi cinque anni dando per scontato che sarà lui sindaco. Invece per fortuna il 26 maggio ci saranno le elezioni e quindi probabilmente ci auguriamo andrà a governare questa città un movimento politico che ha più sensibilità nei confronti di questi temi. Grazie a tutti.